I bimbi non coperti da vaccino in età da nido e da materna rischiano di restare a casa per effetto della legge Lorenzin. Varata nel 2017, la legge prevede l'esclusione dagli asili nido e dalle scuole materne dei bambini sprovvisti dei 10 vaccini obbligatori indicati nel provvedimento. Per gli studenti delle elementari e delle medie, prevista invece una sanzione fino a 500 euro. Con la nostra telecamera siamo andati a vedere qual è la situazione presso il Dipartimento di Igiene Pubblica dell'Asla di Pescara. Dottoressa Patrizia Maranitoro, lei è una dirigente medica del Servizio Igiene Pubblica presso l'Asla di Pescara. Qual è la situazione questa mattina? Allora, in realtà noi siamo una regione oramai dichiarata informatizzata in quanto abbiamo costituito già dall'anno scorso un'anagrafe vaccinale. Quindi sono stati attivati i flussi tra Asla e scuole. Questo significa che noi oggi stiamo finendo di ricevere tutti gli elenchi degli iscritti da tutte le scuole e dentro il 10 giugno, proprio in base alla legge, dobbiamo rispondere, quindi rinviare gli elenchi alle scuole dichiarando quindi tutti i ragazzini che sono adempianti agli obblighi e quelli non adempianti. Entro il 20 luglio poi le scuole ci ricomunicheranno gli alunni che abbiamo dichiarato non adempianti se si sono messi in regola o meno. Quindi noi non rilasciamo più certificazioni in quanto ai genitori, in quanto proprio il nostro flusso, la nostra comunicazione è con le scuole. Dottoressa Marisa Fiorentino, anche lei, dirigente medico del Servizio Igiene Pubblico dell'Asla di Pescara, quali sono i dati in vostro possesso per quanto riguarda la copertura dei vaccini in Abruzzo? La copertura dei vaccini è decisamente migliorata, l'obbligo vaccinale ha comportato un ottimo recupero e siamo sui livelli dell'immunità di gregge, quindi il 95%. Si sta riaccendendo in questi giorni però anche la polemica dei Novavax, voi cosa rispondete? Adesso si sta ricreando questa situazione proprio perché abbiamo un silenzio di patologia. Il morbillo, abbiamo avuto l'anno scorso una piccola epidemia, adesso grazie a queste coperture aumentate la situazione è silente. Purtroppo abbassare le coperture significa offrire il fianco al riemergere di alcune patologie e questo vale tanto per i famosi immunodepressi ma ahimè anche per la popolazione generale che così va incontro nuovamente alle patologie. Grazie. 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 Grazie.